Dottoressa Van Dorn, buongiorno. I farmaci generici rappresentano un'alternativa terapeutica equivalente ai farmaci di marca. Come esponente di un progetto europeo che mira a rendere il cittadino informato anche su questo tema? Nella sua esperienza in Italia come vengono percepiti i farmaci non di marca dai pazienti? Il paziente direi che ha paura, che non si fida, teme il passaggio da un farmaco originatore a un farmaco generico perché non sa, non conosce, non sa già che cosa vuol dire questo termine, il termine farmaco generico e non sa che è esattamente la stessa cosa. In altri paesi europei rispetto all'Italia i farmaci generici sono stati maggiormente accettati dalla popolazione. Che differenza c'è tra l'Italia e gli altri paesi in questo senso? È vero che l'Italia è il paese europeo che attualmente consuma meno il generico rispetto agli altri paesi europei e questo probabilmente è dovuto a una scarsa fiducia generale, probabilmente scarsa fiducia nei confronti anche delle istituzioni e dei controlli che possono esercitare le istituzioni sulle aziende che fanno il generico. Il paziente che non sa quali sono i metodi utilizzati per garantire la sicurezza e l'efficacia di un farmaco può avere paura del farmaco. Il paziente che ha paura del farmaco lo prende male e se l'adesione al farmaco è scarsa l'effetto anche benefico è scarso. Pensa dunque che un paziente informato sia più propenso all'utilizzo dei farmaci generici? Non c'è dubbio. Il paziente informato è molto più tranquillo. Ci sono diversi studi che dimostrano che il paziente informato aderisce meglio alla terapia e la fa più serenamente. Dunque che sia una terapia con un farmaco originatore che con un farmaco equivalente e generico. Il progetto Europeo Upati mira ad aumentare la conoscenza dei pazienti sulla ricerca e lo sviluppo dei farmaci. Quale prevedete che possa essere l'impatto del progetto sul tema dei farmaci generici? Allora l'impatto sarà molto importante perché il paziente che sa, sa anche scegliere. Il paziente che conosce ha più fiducia, ha meno paura. Il paziente non conosce la differenza tra un farmaco di sintesi e un farmaco biotecnologico. Dunque a maggior ragione non conosce la differenza tra un generico e un biosimilare. Assolutamente. Sono tutti termini troppo complessi e ha bisogno di un corso proprio per capire tutto questo. Ed è lo scopo del progetto europeo, europeo e upati sulla ricerca e lo sviluppo dei farmaci. Rassicuriamo i pazienti verso l'utilizzo di questi farmaci? Esiste un ente italiano che è l'Agenzia Italiana del Farmaco che controlla, monitorizza tutti i farmaci, sia essi originatori che i generici, sia essi biotecnologici che i biossimilari. Dunque mi sento proprio di dire agli italiani assolutamente state tranquilli perché le stesse garanzie che avete avuto nei confronti dei farmaci originatori le avrete nei confronti dei farmaci generici, non di marca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.